segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te il 5 settembre già scritto l'epilogo del voto già scritto no enrico letto ha fatto tutta la campagna per la meloni è incredibile nel senso che pur di farla vincere ha sbagliato le alleanze ha proposto di aumentare le tasse che uno va in campagna elettorale c'è berlusconi promette flat tax pensioni a mille euro dentiere e milione di alberi kit di materassi a 9 99 con la televendita c'è berlusconi che fa questo e cosa fa il pd dice ragazzi ho un'idea quale aumentiamo le tasse poi si stupiscono se i sondaggi del pd crollano chissà come mai no il punto fondamentale che il pd ha lavorato per meloni però c'è una possibilità che meloni non vada a palazzo chigi una sola quale che noi facciamo più del 10 per cento e ovviamente una bella sfida perché siamo un partito appena nato perché perché se noi facciamo più del 10 per cento non solo impattiamo sui collegi ma abbiamo un numero tale da provare ad avere un governo diverso da quello di giorgia meloni se la meloni ai numeri è giusto che governi io non dirò mai che lei è fascista io farò opposizione che sia chiaro noi non andiamo con la meloni se lei vince noi non andiamo col pd perché noi abbiamo scelto di fare il terzo polo non stiamo con la meloni non stiamo con ci possiamo fidare perché anche lei con il cinque stelle non sarebbe mai andato e poi c'è stato fermo lì sono due cose diverse è perché lì è successo una cosa incredibile se la ricorda la scena del del papete il papete c'era uno in mutande col moito che diceva di essere ministro dell'interno e lo era davvero e voleva i pieni poteri lì abbiamo bloccato quella che stava diventando un'emergenza però io sono talmente orgoglioso che dal giorno dopo ho lavorato per far che cosa per mandare a casa giuseppe conte e portare mario draghi e chi di voi pensa che sia meglio conte che draghi fa benissimo a votare per i cinque stelle io sono orgoglioso di aver mandato a casa conte lo rifarei domani mattina avevo tutti i sondaggi contro un leader non guarda i sondaggi quindi questo è il punto vero noi diciamo se vincerà meloni spero di no noi siamo disponibili a lavorare con meloni e con tutti gli altri sulle riforme costituzionali perché noi non siamo come quegli altri noi siamo disponibili a ragionare di riforme costituzionali però siamo all'opposizione di meloni e siamo all'opposizione non dico di letta perché tanto la settimana prossima credo che letta ovviamente lascerà la segreteria del pd dopo il risultato è insomma un bello scenario perfetta vecchie ruggini tra lei e le no 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 perché letta si è comportato in modo molto discutibile al momento del passaggio della campanella perché è una storia però di otto anni fa che non voglio riaprire letta è stato mandato a casa nel 2014 perché stava aumentando le tasse perché l'iva l'ha portata dal 21 al 22 io sono pronto a un confronto con chiunque per dire che letta è stato l'ultimo premier ad aumentare le tasse se però si vuole voltare pagina un anno fa di questi tempi enrico letta veniva a chiederci per piacere di votare per lui a siena c'è un nostro dirigente senese che si chiama stefano scaramelli un consigliere regionale di italia viva che riceveva telefonate costanti di letta che gli chiedeva per piacere votami perché se no non ce la faccio alle elezioni suppletive allora letta quando faceva comodo a lui non aveva alcun elemento di rancore personale anzi veniva a chiederci per piacere i voti stavolta ha fatto prevalere il rancore personale ed è chiaro che è andato a sbattere contro mura sbagliato strada a me dispiace però il pd questa campagna elettorale segnata da molti rancori e difficoltà di rapporti personali in generale però non ce li ho fermi io sono l'uomo più io non sono zanne io sono zen quindi da questo punto di vista sono il più sereno allora vado in pubblicità riprendo le devo fare un supplemento di domanda su una cosa che allora io